allora dico forse in queste immagini potete ritrovare qualcuno dei o dei ritratti che avete presenti di dante oppure qualcosa di simile a quello che avete presente comunque questo nostro viaggio vuole rispondere a queste diciamo domande come lo immaginiamo infatti per questo io vi ho chiesto come lo immaginate voi perché tutti hanno in mente una certa precisa idea di dante che è quella con diceva la signora prima la cuffia chiamiamola cuffia rossa un saio lungo il profilo diceva katia perché c'è questo naso molto pronunciato e poi un'espressione piuttosto severa quanto meno severa perché abbiamo in mente questa idea cercheremo di capire perché cercheremo anche di capire se era davvero così tanto o simile a questa a questa immagine e in ogni caso come fosse l'iconografia cioè come si è formata questa iconografia mi confermate che si la registrazione perché io qui non vedo la sì bene grazie allora cominciamo subito eh io mi ero dimenticata che il volto di dante è anche sulla moneta da due euro eh invece così facendo un po' di ricerca è saltata fuori e questa poi vi dirò eh che è un'immagine anzi ve lo dico subito ma poi ve la farò vedere copiata eh presa imitata da Raffaello perché eh insomma Raffaello è stato uno di coloro che ha rappresentato eh Dante più volte eh quindi anche qui i i ritratti le caratteristiche sono quelle che abbiamo detto prima però insomma adesso andiamo a vedere più da vicino ovviamente eh è un ritratto fatto di metallo eh per cui insomma non ci sono i colori eccetera però si riconosce anche se non ci fosse scritto Dante tutti almeno in Italia lo riconoscerebbero ecco questa è la stessa identica ehm iconografia questo è un monumento che si trova a Firenze in piazza Santa Croce è stato realizzato nel 1865 per il centenario della nascita di Dante io vi comincio subito a dire che l'ottocento è un secolo particolarmente importante perché nell'ottocento diciamo che viene riscoperto Dante non è che sia stato sempre così amato eh in Italia non dico che sia stato odiato per carità ma però magari ignorato a lungo ci sono stati preferiti altri poeti per esempio Petrarca eh invece dalla fine del settecento con Giabattista Vigo e poi per tutto l'ottocento è rinato questo amore per Dante che secondo me non è più finito quindi nel corso dell'ottocento ci sono stati una serie di monumenti eh diciamo di iniziative di di vario tipo non solo legate ai monumenti legate alle immagini ma anche legate proprio agli studi alle edizioni della Divina Commedia o delle altre opere mh quindi nel centenario della nascita di Dante venne realizzato questo monumento che si trova a piazza Santa Croce inizialmente l'avevano messo qui in mezzo proprio alla piazza questa però è la piazza dove si fa ancora adesso eh il gioco del calcio storico di Firenze quindi il monumento di Dante in mezzo ingombrava perché dava fastidio al calcio storico allora è stato spostato come vedete nell'immagine a sinistra eh sul sagrato sui gradini praticamente della della chiesa di Santa Croce subito lì però eh voglio farvi vedervi voglio farvi vedere un altro monumento ancora precedente questo che è il Cenotafio in Santa Croce ora Cenotafio è una parola un po' difficile ma ve la spiego significa tafo significa tomba è una tomba però è una tomba vuota non c'è il corpo di Dante qui dentro perché eh il corpo di Dante si trova a Ravenna che cosa era successo era successo che appunto nell'ottocento i fiorentini chiesero a Ravenna di restituire i resti di Dante eh ma Ravenna disse no voi l'avete mandato via in esilio e adesso lo teniamo noi a Ravenna e allora i fiorentini volendo comunque omaggiare il loro grande figlio perché comunque era fiorentino eh hanno realizzato hanno chiesto a questo Stefano Ricci di realizzare questo monumento un gusto un po' discutibile secondo me però è il gusto dell'epoca e è collocato vicino a tutte le tombe dei grandi italiani italiani poeti e non solo poeti che sono state anche cantate da Foscolo nei sepolcri che si trovano a Santa Croce anche questo ha gli diciamo l'iconografia ormai la possiamo chiamare canonica cioè eh l'alloro la cuffia eh questo naso pronunciato qui c'è questa stranezza di questo torso nudo che io non sono riuscita a spiegarmi se non con una vicinanza all'epoca del neoclassicismo quando si rappresentavano questi corpi nudi però non saprei insomma è un po' una particolarità onorate l'altissimo poeta è un verso della Divina Commedia che nella Divina Commedia viene pronunciato eh nei confronti di Virgilio da Omero nei confronti di Virgilio quando Virgilio e Dante tornano dove trovano questi poeti famosi qui invece ecco qui è stata una buona scelta eh l'hanno messo proprio per onorare Dante quindi l'iconografia è questa l'iconografia tradizionale è questa questa ancora ehm forse è familiare a qualcuno di voi perché sempre nell'ottocento c'è questa illustrazione famosissima della Divina Commedia un'illustrazione quindi disegni di Gustave Doré eh e il ritratto il volto è questo in questo caso non è eh cattivo cioè l'espressione non è severa non è pungente perché qui siamo nel primo canto quindi il canto della paura il canto della selva ma se vi faccio vedere questo ritratto vedete che questo è proprio un ritratto semplice di Dante sempre da Gustavo Doré nel 1850 e insomma eh è proprio enfatizzato questo aspetto un po' torvo di Dante sembra quasi farinata degli uberti più che Dante Alighieri allora perché Dante è rappresentato così e da dove viene questa iconografia dell'ottocento? Io nel settecento e nel seicento non ho trovato molto ma vi ripeto non erano epoche in cui Dante era particolarmente amato o particolarmente disegnato rappresentato io non escludo che ci sia qualcosa però se anche c'è non è così famosa non è venuta fuori insomma delle mie ricerche quindi qual è l'archetipo di questa iconografia cioè il modello di tutti questi eh ritratti io mi sono chiesta quale fosse e mi sono dato una risposta è questo è il più famoso di tutti eh forse è quello che che nominava prima Katia eh perché ehm insomma è più conosciuto è il ritratto fatto da Botticelli nel 1495 tra l'altro è un ritratto che si trova in una collezione privata quindi c'è una persona che possiede questo ritratto non sappiamo praticamente nulla di questo ritratto cioè non sappiamo perché Botticelli lo ha fatto non sappiamo per chi lo ha fatto eh niente ignoriamo completamente cioè la storia di questo ritratto è assolutamente ignota sappiamo però che Botticelli era un grande amante di Dante e aveva anche disegnato ehm fatto diciamo i disegni dell'inferno diversi disegni bellissimi dell'inferno in un manoscritto che gli era stato commissionato allora è possibile che questo ritratto sia stato fatto da Botticelli di sua iniziativa perché magari i pittori possono anche fare questo o che qualcuno avesse deciso di chiederglielo ehm però sta di fatto è sicuro secondo me insomma è sicuro che questo è stato il modello di tutti eh di tutte le immagini di Dante future si è fissato in questo modo quindi ripetiamo io l'ho scritti qui i caratteristiche così le possiamo dire con chiarezza cioè questa cuffia che era tipica di quella di quell'epoca anche il colore rosso del vestito non è casuale perché il colore rosso era un colore che usavano eh questo lo dice anche Alessandro Barbero nel suo libro usavano gli intellettuali nell'epoca di Dante quindi questo colore rosso lo qualifica in un certo modo come intellettuale ma eh lo qualifica come intellettuale l'alloro l'alloro eh è il segno dei poeti poi ve ne parlerò un po' più avanti quando vedremo altri poeti con l'alloro eh il volto è piuttosto spigoloso il mento è sporgente in avanti il labbro di sotto è un po' più avanti del labbro di sopra il naso è proprio un naso aquilino gli occhi incavati lo sguardo in questo caso l'espressione lo sguardo è piuttosto fisso un'espressione sicuramente severa poi sull'espressione ognuno ha potuto giocare come voleva eh il fatto che sia di profilo io me lo spiego perché nel quattro c'è la fine del quattro c'è l'epoca di Botticelli è un'epoca in cui si riscopre il gusto classico e qui questo è come è una rappresentazione come quella delle monete infatti eh abbiamo esordito con la moneta da due euro non è molto diversa diciamo l'impostazione dell'immagine ma tanti ritratti del quattrocento sono fatti di profilo del diciamo della metà del quattrocento sono fatti di profilo vi ricorderete quello di di diciamo dipinto da Piero della Francesca di Federico da Montefeltro credo che quello sia il più famoso ma nel quattrocento si facevano anche molte proprio i signori si facevano fare eh le le medaglie le medaglie con come se fossero monete quindi con i loro profili ce ne sono tanti secondo me qui Botticelli ha ragionato su questo però prima poco prima di questo quindi la mia idea la mia ipotesi è che da qui derivi tutta l'iconografia successiva prima poco prima del ritratto di Botticelli c'è questo bellissimo affresco che probabilmente conosciamo tutti eh che è eh di Domenico di Michelino e che si trova a Santa Maria del Fiore un attimo che devo spostare di qua per farmi vedere qui eh è una eh diciamo un omaggio eh che Firenze di nuovo fa a Dante in quell'epoca eh perché come vedete eh viene messa bene in evidenza anche la città come abbiamo visto l'altra volta per chi era presente questa Firenze qui questa che si vede a destra non è affatto la finestra di da la fine la Firenze di Dante. L'epoca di Dante non c'era il Campanile di Giotto, non c'era Palazzo Vecchio, non c'era ehm Santa Maria del Fiore, del Fiore, c'erano forse solamente queste questi due eh monumenti che si vedono in lontananza che sono eh il Bargello e la Chiesa di Badia però è è chiaro che in questo momento eh Firenze vuole auto rappresentarsi in questa maniera e quindi il diciamo l'immagine di Firenze è questa. È molto interessante secondo me che qui ci siano anche i tre regni anche se sembra vederne sono due ma ce ne sono tre perché c'è anche il Paradiso che si vede qua in alto non ci sono beati ci sono soltanto i cieli si vedono tutti i cieli con la luna e tutti i vari pianeti che caratterizzano i singoli cieli come dice Dante nel nel Paradiso. Che cosa si vede ancora? Si vede la collina del Purgatorio qui si riconoscono benissimo alcuni intanto l'angelo che è l'angelo che che segna le P di penitenza sulla sulla fronte delle persone poi c'è la prima cornice con i superbi e via via tutte le altre cornici queste sono un po' troppo poche secondo me vabbè non voglio no forse non sono giuste e in alto il Paradiso Terrestre si riconosce il Paradiso Terrestre perché si vedono Adamo e Eva con il l'albero del bene e del male questa è una cosa che Dante non cioè nel Paradiso Terrestre di Dante non ci sono Adamo e Eva però è chiaro che sono stati messi per poter capire che quello è il Paradiso Terrestre. La cosa che a me piace molto è l'inferno cioè i i dannati che vanno verso l'inferno qui in basso eh questo eh c'è la porta dell'inferno e tutti i diavoli e tutti i dannati credo così mh che siano i i pusillanimi perché Dante diciamo la prima categoria di dannati che Dante incontra l'incontra subito nel terzo canto eh credo che siano i pusillanimi perché corrono tutti dietro ad una bandiera questa che è il contrapasso per questi pusillani vi faccio fermare un attimo riflettere un attimo sul volto di Dante in questo caso cioè sull'espressione mh perché c'è l'alloro qui è la prima volta e con questo fresco è la prima volta che qualcuno ha deciso di mettere l'alloro in testa a Dante e ci sta cioè è una cosa che mh può essere spiegata di nuovo con il classicismo di quest'epoca che hanno quindi recuperato un elemento che era assolutamente un elemento classico non so se eh sapete che l'alloro eh è la era la 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 pianta mh tipica dei poeti e anche eh dei condottieri anche degli tutti gli imperatori romani avevano l'alloro in testa e erano rappresentati diciamo con l'alloro anche i poeti perché perché l'alloro era sacra era la pianta sacra d'Apollo che è il dio della poesia eh qui la prima volta che io almeno ho trovato Dante con con l'alloro è questa 1478 l'espressione è un po' diversa da il ritratto che abbiamo visto di Botticelli perché perché non è cattivo cioè non è severa non è arrabbiata qui Dante più che altro secondo me è amareggiato e triste infatti con questa mano che cosa fa vedere fa vedere il male quindi come se volesse eh se dovesse essere costretto ad ammettere che il male è ciò che nel mondo esiste e lo dice lo lo fa vedere con un con uno sguardo con una espressione eh molto mesta molto molto più che severa proprio molto molto triste non so se siete d'accordo con me poi magari alla fine ci possiamo confrontare su questo perché qui veramente sono interpretazioni ecco eh qui eh vabbè avevo fatto vedere l'ingrandimento però non fa niente con qui si vede meglio forse il il particolare del volto di Dante e della sua mano prima poco prima stiamo tornando indietro eh nella nell'iconografia appunto dantesca eh pochi pochi anni prima non molti anni prima qualche decennio prima di questi due ritratti che sono piuttosto simili va collocato questo bellissimo mi piace moltissimo molto poco conosciuto scusate torno indietro molto poco conosciuto credo eh non so ditemi poi voi eh cheppure ehm invece è abbastanza pregiato ehm l'autore di questo di questo quadro si chiama Andrea del Castagno che aveva eh ricevuto da questo signore Carducci una commissione di eh decorare la loggia della sua villa con tutti i ritratti degli uomini illustri anche questa è una caratteristica dell'umanesimo il quattrocento cioè fatto di raccontare far vedere chi fossero gli uomini illustri come fossero un esempio no per 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 le altre persone nel quattrocento ci sono diversi cicli di questo tipo anche alla fine del trecento si faceva anche nel medioevo però nel medioevo piuttosto che gli uomini erano i santi a essere rappresentati perché il modello era un modello comunque divino nell'umanesimo l'attenzione è più sull'uomo e quindi i personaggi ehm che che fungono da modello sono gli uomini illustri in questa serie anche rappresentato per esempio Boccaccio Petrarca attualmente tutti questi affreschi che appunto si trovavano in questa villa Carducci sono stati staccati e sono stati collocati agli uffizi se vi ricordate per chi appunto era presente la volta scorsa nelle stanze della chiesa dove c'era la chiesa di San Pierscheraggio eh che è stata inglobata dentro gli uffizi perché nei vari passaggi questi mh questi affreschi sono andati a finire anche nella chiesa di San Pierscheraggio allora che cos'ha questo Dante in comune con quello che abbiamo visto eh beh ha eh questa questo saio non saprei come chiamarlo questa tonaca forse eh beh l'abbigliamento è cambiato moltissimo nel tempo no? Gli uomini comunque si si vestivano comunque anche gli uomini con questo che sembrerebbe un vestito a noi oggi sembra molto strano ma l'abbigliamento era comunque questo forse non proprio nel 400 e nel 400 ci sono anche cose diverse cominciano a esserci qualcosa di simile ai pantaloni però nel 300 molto probabilmente era più comune comunque c'è questo abbigliamento così rosso sempre rosso questa cuffia in questo caso sembra proprio veramente più un cappello un po' più elaborata e il volto com'è è sempre un po' ossuto un pochino più cicciottello lo vedo rispetto a quello di Botticelli però non si può dire perché appunto lui era di profilo e non mi sembra un'espressione cattiva mi sembra un'espressione io dico cattiva per dire molto molto eh diciamo quasi proterva quasi ehm a indicare un po' un rimprovero no? Perché il Dante della Divina Commedia eh ci ha abituato a questo cioè Dante rimprovera a tutti compreso se stesso eh perché appunto si l'uomo si si dedica al male piuttosto che al bene no? E e poi non ha paura Dante di dire parole pesanti e dure a a chiunque papi compresi quindi l'immagine di questo volto così altero così eh appunto dico protervo ehm è probabilmente derivata da un'idea che noi ci siamo fatti leggendo soprattutto eh l'inferno e il purgatorio eh qui come vedete non non è così cioè l'immagine è addirittura direi serena cioè una specie di non dico sorriso ma insomma uno sguardo eh limpido tranquillo ehm per cui direi che non c'è questo questo questa atteggiamento che noi siamo abituati a riconoscere da un punto di vista artistico vi faccio notare alcune cose qui siamo nel diciamo nel momento in cui la prospettiva è stata da poco come dire scoperta poco da una ventina d'anni scoperta e infatti questo corpo è un corpo che sta nello spazio si vede benissimo la tridimensionalità che non si vedeva molto nonostante fossero comunque già le epoche eh della prospettiva nel ritratto di Botticelli guardate i piedi che vengono fuori quindi danno proprio l'idea della tridimensionalità e anche questa mano alzata che esce dalla cornice secondo me è molto molto bella questa eh allora da Andrea del Castagno eh ci spostiamo qui finora eravamo sempre a Firenze dico bene eravamo sempre a Firenze con Condorè è al libro quindi il libro non è che è una sede adesso ci spostiamo andiamo leggermente più a sud di Firenze in questa cittadina che si trova in Umbria che è bellissima che ha questo tesoro che è il Duomo eh di Orvieto che vedete qui a destra eh una costruzione gotica molto molto veramente bella preziosa eh vedete a destra il Duomo diciamo l'esterno e a sinistra invece l'interno eh nell'interno del Duomo di Orvieto c'è eh la cappella di San Brizio eh mh affrescata da Luca Signorelli è una cappella molto bella molto ricca io qui ho messo solamente il soffitto per farvi vedere com'è preziosa e questo affresco che è quello più famoso si chiama la resurrezione della carne e poi mi sembra anche un po' pertinente no al tema di Dante vi faccio vedere qui ci sono praticamente le le persone che secondo l'idea dell'Apocalisse di San Giovanni eh riprendono i morti che riprendono i loro corpi e c'è questo dettaglio a destra se ci fate caso di uno scheletro che piano 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 diventa corpo sembra una un film no? Prima dei film siamo nel 1504 perché vi faccio vedere questo perché se guardate qua in fondo ci sono queste qua a destra voi lo vedete il cursore vero sì ci sono queste cornici queste decorazioni nella parte bassa della cappella nelle quali anche qui abbiamo gli uomini illustri io ho messo eh due beh uno perché è Dante ci interessa però ho voluto mettere anche quest'altro a destra che è Empedocle perché è meraviglioso proprio perché sfonda non so come dire sfonda la piattezza del del muro no? Sembra venire fuori addirittura sembra guardare quello che c'è sopra di lui che è un altro affresco ecco a destra abbiamo Dante nel caso di Dante c'è la particolarità che eh ai quattro lati diciamo del del suo ritratto ci siano alcune immagini della tratte dalla Divina Commedia io questa che ho qui è una di queste poi vi farlo l'ho messa ve la faccio vedere ecco com'è il Dante di Signorelli sempre eh ormai l'alloro eh non 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 si toglie più eh il il rosso del mantello chiamamolo mantello della cuffia eh questa cuffietta bianca che è ancora presente questi tratti del viso particolarmente spigoloso forse questo Dante qui è un po' più vero un po' più anziano di quelli che abbiamo visti soprattutto qui è un Dante che studia è proprio rappresentato nel momento dello studio quindi anche qui l'espressione è un'espressione più che di qualunque sentimento secondo me è una semplice espressione di concentrazione è un intellettuale che sta studiando con un gesto direi anche molto plastico vorrei farvi notare come sono belle queste mani proprio queste mani che parlano no però sono anche molto leggere eh quindi è Dante studioso che qui viene rappresentato riprendendo comunque nel volto e nel nell'abbigliamento le caratteristiche che ormai si sono consolidate siamo nel 1504 ecco questo è quello che vi dicevo il mono uno dei quattro monocromi non li ho messi tutti ho messo questo eh qui abbiamo Dante che sarebbe questo Virgilio che sarebbe questo questi sono i superbi del purgatorio e qui indietro eh ci sono le cornici eh degli umili dell'umiltà del purgatorio che Dante premette al peccato della superbia cioè prima di raccontare la pena dei superbi Dante mostra gli esempi di umiltà eh diciamo virtuosa no? Qui si riconosce la l'annunciazione perché secondo Dante questo è il massimo dell'umiltà eh nella impersonata dalla madonna. Ecco adesso c'è un altro grande capitolo su eh su questo argomento eh prezioso perché ci troviamo scusate ci troviamo nei musei vaticani le le famose la famosa stanza della segnatura dove Raffaello ha dipinto per esempio la scuola di Atene famosissima no? A una delle pareti eh vicino appunto alla scuola eh alla scuola di Atene c'è questa eh c'è questo affresco che è la poesia. Eh dunque quella stanza della segnatura è concepita con la rappresentazione della eh filosofia della teologia eh della poesia eh e eh appunto una di queste pareti è dedicata alla poesia e qui siamo proprio nel Parnaso cioè il monte sacro d'Apollo questo al centro è Apollo questa intorno ad Apollo sono le nove muse quindi le protettrici delle arti e intorno a loro tutti i poeti tutti poeti diciamo passati e presenti ovviamente tutti più grandi ci sono tutti più grandi e ovviamente non poteva mancare Dante come vedete qui tutti hanno la corona dall'oro come all'oro sono anche questi alberelli che si trovano qui eh perché la leggenda la leggenda è il mito racconta no? Della famosa eh storia di Daphne Apollo innamorato di Daphne che eh invece lo fuggiva quando Apollo aveva eh raggiunto Daphne eh il padre di Daphne Peneo che era stato appunto pregato dalla figlia trasforma la figlia in alloro e nella pianta dell'alloro c'è la bellissima statua del Bernini alla Galleria Borghese se non l'avete vista provate a digitare a cercarla e quindi da quel momento l'alloro diventa il simbolo eh il simbolo di Apollo perché è la pianta più cara d'Apollo. Io aggiungo che noi per fare una piccola notazione linguistica quando in Italia una persona arriva alla laurea appunto prende la laurea il nome laurea deriva proprio dall'aurus cioè da sottolineare questo traguardo legato eh all'alloro e anche il nome di Laura è un nome legato all'alloro ma quello riguarda più Petrarca che Dante. Dante non ebbe mai veramente l'alloro cioè non ebbe no eh mentre Petrarca ottenne la corona di poeta quindi diciamo la corona di alloro nella sua vita Dante eh la chiese diciamo si si augurò di ottenerla ma non la ebbe però ciò non toglie che se la meriti e che sia un grande poeta come gli altri. Vi faccio vedere il dettaglio. Allora qui questi tre personaggi sono Omero, Virgilio e Dante. Ecco il volto di Dante qui eh è veramente un volto duro, un volto cupo, un volto nero eh con questo naso molto lungo, è proprio molto molto spigoloso ehm triste non so come 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 se queste quest'idea del male e del male degli uomini fosse sempre presente alla sua mente. Ho messo qui il ritratto di Virgilio per contrasto eh ovviamente questo non è il Virgilio di Dante, questo è proprio il Virgilio poeta che Raffaello ha immaginato così e che è sempre rappresentato, rappresentato, sempre immaginato come un poeta molto dolce. Virgilio è il poeta dei vinti, il poeta degli umili eh non è il poeta degli eroi anche se canta gli eroi però lui è più partecipe del dolore dei vinti e quindi è un'immagine veramente molto dolce soprattutto paragonata a Dante. Ma Raffaello non si è limitato a quel Dante ma sempre eh nelle stanze vaticane però nella stanza di Eliodoro non lontano quindi sempre negli appartamenti vaticani dipinge un altro Dante in quest'altro affresco. Questo affresco viene chiamato la disputa del sacramento ma in realtà mette insieme eh diciamo la la chiesa, una rappresentazione della chiesa, la chiesa trionfante cioè quella che è nel cielo che si vede in alto con eh Dio, Cristo, Spirito Santo, la Madonna, San Giovanni e tutti quanti i santi e sotto invece si chiama la chiesa militante cioè gli uomini che hanno eh fatto grande la chiesa quindi gli uomini che hanno fatto cose importanti per la chiesa e qui ci sono varie categorie di persone come vedete a destra ci sono papi, ci sono cardinali eh e c'è anche Dante e Dante mh sempre con la corona dall'oro probabilmente il merito di Dante come diciamo come uomo che ha militato per la chiesa è proprio la divina commedia e infatti qui non ci sono Petrarca, Raffaello e cioè ci sono altri poeti no altri ci sono dei pittori per esempio ma non poeti quindi Dante qui viene non solo identificato come poeta ma come poeta cristiano e il volto di Dante è questo eh dunque c'è da dire che questi sono affreschi quindi non non diciamo nel momento in cui vengono dipinti non ci si aspetta che uno li guardi da vicino d'accordo l'importante è che ci sia una riconoscibilità ma il dettaglio forse non è così importante eh tuttavia ecco questo Dante è veramente eh un Dante arrabbiato cioè qui proprio è arrabbiato e tra l'altro è proprio l'immagine che è nei due euro nella moneta dei due euro hanno scelto questa immagine per rappresentare Dante ehm allora l'ultimo mi pare che sia l'ultimo eh diciamo l'ultimo esempio di questo tipo di eh di rappresentazione di Dante ho trovato questa questo disegno che si trova in una eh in un libro di Dante una delle edizioni a stampa del convivio nel 1512 mi sembra che riprenda assolutamente tutte queste caratteristiche che abbiamo eh finora osservato qui ho messo un po' un elenco andiamo oltre il 500 ehm abbiamo Giorgio Vasari eh qui è Dante rappresentato insieme altri poeti qui c'è Petrarca per esempio c'è Boccaccio Marsilio Ficino che ha comunque un altro intellettuale sempre con le stesse caratteristiche con qualche variazione diciamo pure ma le caratteristiche diciamo l'iconografia cioè iconografia è una parola difficile significa il modo in cui eh si disegna qualcosa ecco il modo in cui si disegna Dante in questo periodo ormai nel tutto il 500 sarà questo questo è famoso ritratto di Angelo Bronzino eh alla fine eh alla metà diciamo quasi alla metà del del 500 eh questo è secondo me è molto particolare perché eh c'è una luce molto mesta in questo ritratto e c'è in lontananza la collina del purgatorio quindi forse voleva essere un Dante più eh che pensa proprio a questo tema cioè al tema del pentimento al tema del perdono al tema del mh diciamo del rinnovamento no dell'uomo dopo il peccato mh però il naso il volto lo spigoloso il rosso l'alloro ci sono tutti allora e qui vi chiedo uno sforzo perché dobbiamo leggere eh questi questi queste righe che non credo siano troppo difficili solo che io mi devo togliere questo se non riesco a leggerli eh vabbè eh allora perché Dante quindi è stato dipinto o scolpito in questa maniera eh il punto di partenza è un testo scritto un testo scritto da un suo grandissimo ammiratore che è Boccaccio Giovanni Boccaccio eh l'autore del Decameron eh è stato il primo grande ammiratore di Dante eh anche se quando Dante cioè subito Dante divenne famoso cioè subito la Divina Commedia veniva letta veniva anche commentata però non era così non era così come dire eh fuori dalla discussione che Dante fosse proprio così grande per esempio il suo eh come dire il suo successore in termini di poesia Petrarca non non lo stimava in maniera particolare non lo amava in maniera particolare non guardava almeno quello che dichiarava non lo guardava con con diciamo per imitarlo eh invece Boccaccio lo ha amato moltissimo e tra eh tra l'altro Boccaccio è stato uno dei primi a leggere e a fare le letture d'antis eh uno il primo in assoluto è stato Boccaccio che leggeva nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze i primi canti del pur dell'inferno poi fu interrotto proprio dalla peste se non sbaglio e Boccaccio scrive nel 1351-1365 cioè in questo periodo non si sa esattamente quando vi ricordo che sapete benissimo Dante è morto nel 1321 quindi 1351 siamo trent'anni dopo la morte di Dante Boccaccio descrive in questo eh anzi prima vi spiego scrive un trattatello in laude di Dante cioè un piccolo trattato per elogiare per lodare Dante e tra le altre cose eh descrive anche Dante come fa a descriverlo? Boccaccio non l'aveva mai visto eh anche perché Boccaccio è nato nel 1310 eh quindi insomma Dante è morto undici anni dopo quindi anche se l'avesse visto Boccaccio sarebbe stato molto piccolo aveva visto invece Petrarca Petrarca aveva conosciuto Dante questo lo racconta lui però lui era molto piccolo quindi anche lui aveva un ricordo molto vago eh perché Dante era coetaneo con il padre di Petrarca e tutti e due erano stati esiliati quindi nell'esilio di entrambi a un certo punto Dante era andato a trovare diciamo così il padre di Petrarca e Petrarca si ricorda l'evento ma non si ricorda più di tanto eh i dettagli era piccolo anche lui allora che cosa ci dice Boccaccio leggiamo fu dunque il nostro poeta di mediocre statura mediocre significa media e poiché alla maturetà fu pervenuto andò alquanto curvetto quindi quando Dante diventa vecchio Dante muore che ha cinquantasei anni quindi comunque rispetto a quello che pensiamo noi non sarebbe vecchio eh in realtà per l'epoca lo era lui dice anche Dante stesso e alcune le dice anche che aveva capelli bianchi andò alquanto curvetto ed era il suo andare grave e mansueto cioè il suo modo di camminare era un modo di camminare molto dignitoso e molto mansueto c'è un punto del purgatorio in cui eh Dante dice proprio che la fretta toglie la magia ad ogni movimento la fretta la fretta non non si sposa con l'eleganza non si sposa con il decoro e quindi lui aveva questo modo di camminare decoroso d'onestissimi panni sempre vestito quindi sempre vestito di panni onestissimi qui la parola onesto l'aggettivo onesto nell'italiano dell'epoca significa belli piacevoli diciamo eleganti in quell'abito che era la sua maturità convenevole quindi l'abito che era giusto per la sua età perché eh allora forse più che adesso i vestiti non erano tutti diciamo non andavano bene tutti ognuno doveva vestirsi in base alla sua condizione sociale e anche alla sua età e adesso arriviamo alla descrizione del volto il suo volto fu lungo e il naso aquilino e gli occhi anche anzi grossi che piccoli cioè gli occhi piuttosto grandi che piccoli le mascelle grandi e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato cioè il labbro di sotto era come dire andava avanti era più avanti di quello di sopra così se vogliamo e il colore era bruno e i capelli e la barba spessi neri e crespi e sempre nella faccia malinconico e pensoso allora non non è difficile ritrovare nei ritratti che abbiamo visto eh le caratteristiche che qui Boccaccio disegna ma il punto è che Boccaccio non l'aveva mai visto Dante come faceva a dire questo chi gliel'aveva detto Barbero dice Alessandro Barbero dice che c'era un nipote di Dante con cui eh Boccaccio aveva parlato Andrea il figlio del fratello di Dante quindi questo ritratto eh Boccaccio non lo fa diciamo per quello che lui ha visto ma lo fa per quello che gli è stato raccontato da qualcuno molto vicino a Dante tra l'altro questo qualcuno diceva di somigliargli cioè lui assomigliava molto a Dante e e vabbè e quindi da questo ritratto è partito eh è partita l'iconografia eh che noi conosciamo però c'è un però il però è che ci sono dei ritratti di Dante precedenti sia questo scritto di Boccaccio sia tutti gli altri ritratti che abbiamo visto che ci dicono qualcosa di diverso e io adesso ve li faccio vedere il primo di questi ritratti l'abbiamo già visto eh sempre nella scorsa mh presentazione si trova in questo palazzo che è il museo del Bargello il palazzo del Bargello vi ricordo che era il palazzo del potestà eh poi divenne una prigione eh e il nome Bargello infatti deriva da dal fatto che il capitano delle guardie si chiamava Bargello eh e allora il palazzo è diventato il palazzo del Bargello cioè il palazzo del capitano delle guardie e questo già a partire da la fine del quattrocento dall'età medicia dentro eh questo è all'interno del palazzo questa a sinistra con questa con questa scala molto molto ripida a destra un'altra immagine del del palazzo dentro questo palazzo c'è la cappella della misericordia con un giudizio universale allora io vi faccio vedere questo eh dunque la parete appena si entra in questa cappella appena si entra sulla sinistra c'è questo che è l'inferno io mi scuso ma non sono riuscita a trovare una fotografia migliore però questa immagine dell'inferno questo lucifero è un lucifero che ricorda il lucifero dantesco per esempio poi le tre facce come abbiamo visto anche l'altra volta ma le ali da pipistrello che invece non ha non hanno tutti gli altri luciferi perdonatemi il plurale che abbiamo visto eh beh che insomma che abbiamo visto nel nel corso di queste presentazioni ma che anche esistono eh in Italia quindi probabilmente più vicino a a quello che ha fatto Dante e poi c'è ovviamente il paradiso allora intanto vi dico che eh il l'autore di questo di questo di questi affreschi sarebbe Giotto cioè sono attribuiti a Giotto poi ovviamente gli studiosi hanno lavorato hanno capito che non è Giotto ma è la bottega di Giotto perché Giotto era un grande imprenditore come pittore per cui lui faceva i disegni eh diava come dire le direttive ma poi eh erano i eh i suoi allievi o i suoi collaboratori che portavano avanti il il compito questa cappella però ha una storia molto strana perché fu quasi subito cioè quando divenne un una prigione quindi già nel quattrocento eh imbiancarono tutte le pareti quindi non si vedeva più nulla però Vasari abbiamo visto prima il il Dante del Vasari Vasari ha scritto oltre a essere un pittore ha scritto le vite dei pittori e nella vita di Giotto diceva che Giotto aveva dipinto una eh un giudizio universale nel Bargello però questo giudizio universale non si vedeva e chiedeva ehm cioè nel tempo poi ehm studiando appunto eh i dettagli di di quello che raccontava Giotto scusate di quello che raccontava Vasari si è immaginato che questo dentro questo posto che però voi ve lo dovete immaginare tutto bianco sotto le pareti bianche c'era eh l'affresco c'erano gli affreschi di Giotto e la cosa importante è che comunque Giotto diceva che c'era un ritratto di Dante Vasari diceva che c'era un ritratto di Dante per cui nel lini alla fine no dell'ottocento quindi questo secolo che ha riscoperto e ha amato moltissimo Dante hanno cominciato a fare dei saggi quindi hanno cominciato a provare a vedere se veramente c'era qualcosa c'erano degli affreschi e hanno trovato gli affreschi quindi poi ci hanno lavorato e li hanno eh come dire restaurati come vedete si vede poco sono molto rovinati non non insomma non si riesce proprio a gustarli però intanto si vedono e c'è il nostro Dante e il nostro Dante è qui non so se così ve lo faccio poi ve lo faccio vedere meglio però per farvi capire dov'è nel paradiso eh Giotto lo mette nel paradiso eccolo qua questo ve l'ho fatto vedere la volta scorsa vi faccio notare che sempre il vestito rosso sempre la cuffia rossa con questa cuffietta sotto bianca il volto sicuramente è un volto un po' spigoloso guardate la eh mascella un pochino più in avanti come dice Boccaccio il naso sicuramente un bel naso pronunciato un'espressione completamente diversa un'espressione molto sì seria come diceva Boccaccio malinconico e pensoso però non così protervo non così ehm diciamo quasi irritato no non so se voi non la pensate come me ma mi sembra molto diverso non c'è l'alloro io non dico che sia questo il Dante vero anche perché anche qui ehm dunque allora Giotto ha conosciuto Dante Giotto lo ha visto lo ha visto eh quando lui Giotto dipingeva eh la cappella degli Scrovegni a Padova e lì si sarebbero incontrati non è mai una certezza assoluta però eh gli studiosi hanno calcolato che eh è molto probabile che Giotto e Dante si siano incontrati quindi potrebbe essere che Giotto ha eh immaginato un un volto analogo a quello che lui ha visto tra l'altro lo avrebbe visto anche negli anni dieci quindi abbastanza avanti come dire Dante negli anni eh comunque questo è il ritratto eh il ritratto più antico che abbiamo di Dante è questo datato al mille trecentotrenta eh ce n'è un altro ecco ve lo faccio vedere subito eh leggermente posteriore mille trecentoquaranta ma non è una datazione certa che si trova in questo palazzo qui a Firenze è molto vicino al Bargello adesso c'è un ristorante un ristorante di pesce con un nome che non mi ricordo è un nome inglese ma eh la cosa interessante è che chi ha comprato questo palazzo per farne un ristorante lo ha fatto ristrutturare facendo i lavori è comparso questo affresco ancora i ritratti di uomini illustri anche qui anche qui c'è Boccaccio non c'è solo Dante e però c'è anche Dante allora guardate questo ritratto di Dante e eh non non cioè se io ve lo facessi vedere senza dirvi che è Dante nessuno di voi penserebbe a Dante no? Correggetemi se sbaglio cioè non è il Dante a cui siamo abituati quello col col profilo dice dice Katia cioè col naso aquilino eh con l'alloro la cuffia eccetera è un Dante molto diverso eh però insomma noi dobbiamo stare a quello che che ci dicono che è comunque un ritratto di Dante leggermente posteriore a quello del Bargello probabilmente di una mano anzi sicuramente di una mano meno pregiata meno capace di quella di Giotto eh però eh il suo ritratto perlomeno così come qualcuno l'ha voluto rappresentare adesso su questo non più di più di questo non si può dire vi dico che se andate a Firenze si può entrare dentro questo ristorante per vedere questi affreschi anche se non mangiate quindi questo signore perché ci sono state molte polemiche no? Che bisognava fare un museo così eccetera alla fine hanno deciso che eh cioè lui l'aveva comprato eh l'ha scoperto però ha reso impossibile la visita ecco qui c'è il si vede male perché la la foto è sgranata però il dettaglio forse lo capite un pochino meglio non è finita perché ci sono altri ce ne sono tantissimi di ritratti di tante ce ne sono altri hm diciamo ancora hm nel nel corso del trecento questa è Santa Maria Novella la riconoscete questo è il chiostro di Santa Maria Novella dentro il cosiddetto chiostro verde qui in questo in questa zona c'era quella che si chiamava la sala capitolare cioè la sala dove i monaci nella chiesa di Santa Maria Novella c'erano i monaci monaci domenicani si riunivano per beh insomma all'inizio per confessarsi e poi per prendere le decisioni importanti e dentro questa sala c'è questo meraviglioso affresco ehm che ancora racconta la chiesa militante e la chiesa eh trionfante eh si chiama Cappellone degli Spagnoli perché alla fine del cinquecento si riunivano qui si riuniva diciamo qui la corte si riuniva qui nel senso che ehm qui si svolgevano le messe le cerimonie religiose eh legate agli spagnoli che avevano seguito Leonora di Toledo che aveva sposato eh il duca di Firenze il gran duca di Toscana e quindi gli è rimasto il nome Cappellone degli Spagnoli questo affresco secondo me bellissimo eh enorme peraltro prende tutta quanta la parete eh racconta di nuovo la chiesa eh trionfante qui in alto e la chiesa militante ehm e eh come vedete qui c'è anche un'immagine un po' così intuitiva del Duomo di Firenze anche qui ovviamente c'è Dante se no non ve l'avrei messo ecco qua qui c'è la freccia adesso ve lo faccio vedere da vicino ho messo questo per farvi capire in quale zona rispetto al totale quindi in questa zona in basso dobbiamo cercare Dante eh eccolo qua allora andiamo prima a sinistra sarebbero questi tre Boccaccio, Dante e Petrarca io vi dico la verità ho trovato così eh questo qui come Petrarca mi convince poco a me sembra che Petrarca sia piuttosto questo in alto però in tutti in tutte le cose che ho trovato eh dicevano che questo questo Boccaccio si riconosce eh Dante sarebbe questo Petrarca non mi sembra molto quest'immagine qui piuttosto direi questo in alto e la cosa carina è che qui in basso ci sono le loro amate Beatrice con la corona Laura e Fiammetta di Boccaccio qui vi ho messo il dettaglio e guardiamo un attimo il volto di Dante eh non è così non è come quello delle due euro le due euro no c'è sempre il naso lungo certo c'è questo questa mascella che sporge leggermente in avanti c'è uno sguardo fisso serio diciamo però non mi sembrerebbe assolutamente uguale a a quello non è finita ancora in Santa Maria Novella questa volta dentro la chiesa eh questo pittore meno conosciuto che si chiama Nardo Dicione nella cappella che vedete qua a destra ha rappresentato il giudizio universale ancora e in questa parte qui che sarebbe poi questa vedete c'è questo signore che viene fuori ci sono queste persone di nuovo c'è Dante Alighieri qua si vede si vede un pochino meglio sarebbe questa zona qua questa zona qua vi faccio vedere il dettaglio ecco eccolo qua questo sembra veramente molto ehm insomma andare già verso ehm quelli del quattrocento perché questo naso è molto pronunciato questa questo mento è molto spinto in avanti questo è un Dante invecchiato vedete anche le rughe anche lui è in paradiso ehm cioè anche lui anche in questo caso è in paradiso il colore del diciamo del vestito non lo possiamo capire nel senso che è rovinato quindi sicuramente non è non è bianco eh c'era un colore che però probabilmente è quel rosso non questo del cardinale ma un rosso un pochino più eh viola diciamo un rosso eh che va un pochino verso il rosa e siamo mille trecentocinquanta mille trecentocinquantasette ma poi ho scoperto anche questo ritratto di Dante perlomeno viene viene definito ritratto di Dante scoperto per caso per un'eredità che una signora francese aveva avuto adesso non vi so raccontare ehm una tavola attaccata ad un affresco staccato è stato attribuito ad un giottesco che si chiama Puccio Capanna e sarebbe un ritratto giovanile di Dante io lo vedo molto diverso da tutto quello che abbiamo visto finora eh non sono certamente io che si mette a dire è o non è il ritratto di Dante non ho le competenze che cosa vedo vedo l'abbigliamento quello che conosciamo attribuito a Dante che però viene anche attribuito ai eh in generale ai 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 colti la cuffia è l'immagine oggettivamente insomma ricorda gli occhi grandi come diceva Boccaccio il naso il naso dritto la mascella pronunciata mi sembra un pochino poco per dire che questo ritratto è il ritratto di Dante però eh è attribuito cioè è riconosciuto come come ritratto di Dante allora che dobbiamo concludere Dante era così cioè questi tre ritratti che vediamo quindi il primo del giudice denotai il secondo del cappellone degli spagnoli il terzo quello della Bargello allora Dante era così più così che non eh come come ce l'ha fatto vedere Botticelli e da Botticelli in avanti ce lo dobbiamo chiedere chi lo può dire cioè è difficilissimo poter rispondere quello che mi sento di di dire dopo aver visto insomma tutte queste cose è che sicuramente non era come l'ha dipinto Botticelli io sono sicura che non fosse così cioè lì ci sono delle cose mh interpretate da lui legittimamente perché ovvio che ogni pittore fa quello che sente di fare probabilmente leggendo Boccaccio eh Botticelli era un umanista che lui cioè amava la cultura amava quindi avrà sicuramente letto Boccaccio e avrà immaginato questo ritratto però ecco come vedete mh insomma non dobbiamo prendere per buono quel ritratto forse nemmeno questi forse nemmeno questi sono ehm la rappresentazione perfetta di quello che era Dante eh però forse questi si avvicinano un pochino di più anche perché cronologicamente sono eh più vicini insomma eh vi ricordo che questo qui è del 1330 è vero che Dante aveva lasciato Firenze 30 anni prima però è anche vero che eh la bottega di Giotto è una bottega che lavorava in giro per l'Italia quindi è possibile no scusate questo non è questo di Giotto volevo dire è possibile che eh l'avessero visto davvero e noi non lo sapremo mai assolutamente beh insomma non si sa mai eh si può sempre scoprire qualche altra cosa quindi rimaniamo con questo punto interrogativo ma adesso ci divertiamo un po' perché allora che cosa è successo perché poi ovviamente tutti ci si sono come dire buttati su questa cosa di Dante e nel 1921 quindi cent'anni fa dico bene quindi di nuovo nell'anniversario della della morte di Dante questo signore antropologo Fabio Frassetto dell'Università di Bologna che cosa ha fatto? Ha fatto dei rilievi cioè dei disegni no? A partire dalle ossa dai resti di Dante che si trovano a Ravenna perché in quegli anni eh furono prese queste ossa furono studiate e furono fatti appunto anche questi rilievi e lui cioè questo antropologo ricostruì il cranio di Dante e quando andò a confrontare il cranio di Dante con i ritratti che c'erano di Dante vide che non 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 corrispondevano l'unico che corrispondeva era quello giottesco del Bargello quello che abbiamo visto precedente al testo di Boccaccio perché questo è scusate forse questo non l'ho abbastanza messo in evidenza cioè il tra il ritratto di Giotto viene prima di quello che ha detto Boccaccio e non è finita qui nel 2006 questo laboratorio della facoltà di ingegneria della facoltà di Bologna della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna ha fatto a partire da quei rilievi che aveva fatto nel ventuno frassetto ha fatto un volto tridimensionale di Dante il volto tridimensionale di Dante è quello che vedete qui non so che cosa ne pensate voi eh mi sembra che risponda sia al ritratto di Boccaccio sia a quello di Giotto non lo so io ve lo ve lo mostro così come è stato fatto le conclusioni non le tiro io ve le lascio a voi questa poi esiste quest'altra maschera funeraria di Dante cioè si dice che sia la maschera funeraria di Dante ma non è vero che sia la maschera funeraria di Dante mh perché eh hanno verificato da da studi di tipo storico che eh è datata al 1483 eh realizzata da questi due signori Pietro e Tullio Lombardo quindi non esiste una maschera di Dante allora io a questo punto vi faccio vedere alcune altre piccole cose ma andiamo verso la conclusione sono andata veloce quella è la biblioteca riccardiana dove si trova eh uno dei codici in cui era eh scritta la Divina Commedia il codice riccardiano 1040 eh e c'è questo ritratto di Dante del 1400 eh attribuito ma non con certezza a Giovanni del Ponte al miniatore Giovanni del Ponte ecco questo ritratto è molto famoso credo che sia molto famoso anche questo eh e già rappresenta un'iconografia precisa eh probabilmente io cioè l'idea che mi sono fatta che magari Botticelli l'abbia potuto vedere anche questo come vedete di profilo perché eh siamo nel 400 e il profilo nel 400 andava andava molto di moda ho messo un po' di vado veloce un po' di disegni che vengono da manoscritti danteschi eh cioè manoscritti che raccontano la Divina Commedia questo manoscritto è ritenuto il più antico non è facilissimo dire quale sia più antico eh insomma esattamente però questo viene ritenuto del composto tra il 1333 e il 1334 anche se Giorgio Petrocchi dice che è del 1350 si chiama Codice Poggiali eh è di proprietà della Biblioteca Nazionale di Firenze qui mi piaceva farvi vedere alcune immagini non perché ci sia una particolare iconografia dantesca nel senso che eh i i miniatori forse non hanno proprio in mente l'intenzione di di raccontare un personaggio facendone vedere le fattezze a loro interessa che si capisca che ci che c'è quel personaggio ma non esattamente con mh caratteristiche realistiche per esempio qui abbiamo il diavolo Caronte questo è il fiume ehm di Elina Caronte il fiume dell'inferno e abbiamo Virgilio e Dante Dante vestito di rosso anche qui e un pochino il naso pronunciato c'è quindi eh insomma evidentemente l'iconografia anche qui io questa qui mi piace moltissimo guardate questi diavoli sembrano veramente non lo so sono dei diavoli molto simpatici e di nuovo Dante è lo stesso cioè in tutte le carte del del dovreste spegnere il telefono eh non il telefono il microfono in tutte le carte di questo manoscritto Dante è rappresentato in questa maniera anche qui mh che siamo davanti all'angelo del purgatorio alla fine del purgatorio c'è anche Stazio un altro personaggio questo è un altro manoscritto che rappresenta Dante che scrive la Divina Commedia ehm manoscritto della British Library e siamo nella prima metà del trecento e questo sarebbe Dante è cappello rosso e probabilmente doveva essere rosso anche il vestito di nuovo ehm questo eh è lo stesso eh lo stesso manoscritto eh però eh una carta successiva un'immagine successiva si riconosce il diciamo il disegno di Dante come come guardate com'è diverso il vestito di Virgilio da quello di Dante quello di Virgilio deve raccontare un uomo di epoche precedenti ecco questo mi sembra più somigliante come ritratto questo è un manoscritto che diciamo ha scritto solamente l'inferno e si trova al San Daniele del Friuli eh e eh ecco c'è Dante rappresentato mentre scrive la Divina Commedia l'abbigliamento è quello eh il naso pure eh la 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 questa parte del del volto quindi il mento sporto in avanti e gli occhi e gli occhi grandi siamo alla fine del 300 però qui Boccaccio l'abbiano sicuramente letto questo invece è un manoscritto di Londra si trova attualmente a Londra come vedete non c'è nessuna intenzione di raccontare un volto preciso qui abbiamo Dante Beatrice e a destra Dante Virgilio infatti devono scriverci i nomi per far capire chi sono i personaggi eh e questo è il famoso Yates Thompson della British Library bellissimo questo io l'ho voluto mettere per farvi vedere veramente com'è prezioso com'è raffinato Dante Virgilio qui eh sì qui Dante addirittura è vestito di blu con colore diverso ancora eh i disegni ecco i disegni di Federico Zuccari questi li ho voluti mettere questo qui eh è ripreso da bronzino dal fresco di bronzino che abbiamo visto prima perché se volete li trovate online se andate sul sito degli uffizi proprio per la celebrazione del eh dell'anno dantesco ci sono tutti i disegni di Federico Zuccari che sono disegni che custodisce gli uffizi ma che non si possono vedere perché questi sono disegni preziosi e fragili quindi non li possono far vedere al pubblico ehm però adesso si possono vedere online con una buona definizione io ne ho scelti due questo è quello della selvo scura e quello quello di Dante ecco adesso facciamo una piccola carrellata su eh diciamo le immagini più moderne di Dante che sicuramente conoscete avete visto avete presenti ecco questo sarebbe l'incontro si chiama l'incontro e vorrebbe rappresentare il primo incontro tra Dante e Beatrice che non è assolutamente vero che sia così intanto il primo incontro loro l'hanno avuto a nove anni e qui evidentemente sono più grandi ma certamente non era possibile nell'epoca di Dante che una donna andasse in giro da sola e potesse incontrare da sola o anche con altre donne potesse incontrare un uomo in questa maniera ma non è questo ovviamente che si chiede all'arte secondo me qui è molto bella la l'ambientazione il dettaglio eh di Firenze che potrebbe anche essere come era in quell'epoca nel 1833 intendo dire non nell'epoca di Dante e sempre Dante comunque l'iconografia ormai insomma è quella no anche se qui è vestito di verde e non è vestito di rosso questo invece è un un'interpretazione diversa di John Fusley è un disegno è uno studio forse voleva farne qualcosa che poi non ha fatto questo è Dante di fronte a Paolo e Francesca è un Dante molto diverso con i ricci addirittura è un po' un Dante che va verso il romanticismo secondo me eh è sconvolto da quello che vede questo è Dante Gabriele Rossetti un grande innamorato di Dante ancora ci racconta ancora l'incontro con Beatrice qui è un po' più vero perché l'incontro il primo incontro con Beatrice fu ad una festa di matrimonio infatti qui vedete ci sono eh c'è la sposa però appunto Beatrice e Dante erano dei bambini di nove anni eh appunto siccome erano bambini eh i rispettivi padri li avevano portati con sé per questa festa perché fino a quell'età cioè fino ai nove anni non si faceva caso al fatto che maschi e femmine potessero stare insieme dopo dai dieci anni in avanti non era più consentito quindi infatti Dante poi rivide Beatrice solamente a diciotto anni immagino che Beatrice sia questa ma non non ne ho la certezza comunque questa questa donna al primo al primo posto diciamo più vicina a Dante questo invece è un quadro interessante si trova alla Galleria d'Arte Moderna di Firenze di questo pittore toscano Domenico Petrerlini eh perché è l'unico tra tutti i ritratti di Dante che abbiamo visto che parla dell'esilio Dante in esilio 1860 eh sì anche questi sono anni in cui il tema dell'esilio il tema della patria è molto sentito quindi piuttosto che sottolineare il il Dante poeta che cerca di indicare una strada agli uomini quindi in questo si riveste anche di severità quindi invece di indicare un Dante severo qui si indica un Dante malinconico tutto è malinconico in questo quadro eh compresa l'espressione del poeta che comunque non è lontana da quelle indicazioni che ci dava Boccaccio anche se non non enfatizza non 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 ne fa eh un come dire una caricatura ecco diciamo così eh mi sembra interessante che sia l'unico dipinto che ho trovato che parli dell'esilio che invece è l'evento che nella vita di Dante è stato quindi qui più che Dante poeta qui vede eh Domenico Petrellini vede il Dante uomo eh e mi sembra insomma una cosa da sottolineare questo l'ho messo perché mi piaceva molto la luce di questo quadro Raffaello Sorbi sempre in Toscana è bellissima questa immagine l'incontro di Dante e Beatrice niente di vero però una bellissima immagine di questi eh viandanti che vanno alcuni penso alcuni vanno verso ehm verso la chiesa che è questa di San Mignato alcuni vengono dalla chiesa di San Mignato Dante qui un po' curvetto come diceva Boccaccio con il libro in mano l'abbigliamento solito il naso che si riconosce e questa ovviamente è Beatrice è una bella immagine un bel quadro anche se insomma non non credo che ci possiamo chiedere qualcosa di su Dante veramente il novecento innova il novecento va un po' per la sua strada fa quello che vuole perché ha altri interessi come lo di Leon Redon che eh racconta Dante e Beatrice in cui quello che eh deve colpire non è eh come è fatta Dante come è fatto Dante o come è fatta Beatrice ma proprio l'emozione l'idea forse l'amore la passione che c'è tra questi due che sono quasi ehm non so io me li vedo come se fossero delle figure enormi più grandi del del mondo perché sotto c'è una specie di mare però ecco è una ehm è una sensazione che questo poeta vuole rendere certamente non è interessato a vedere come fosse Dante infatti non ha nessun tipo di ecco concludo con alcune cose proprio molto contemporane molto molto recenti questa che è secondo me è molto bella questa scultura che si chiama El Dante e che è stata fatta nel 2017 da un scultore che si si chiama Delfo Galli ed è stata regalata eh al Papa a Papa Francesco anche se eh c'è l'autorizzazione di mh su richiesta di poterne fare altre copie da mettere non so davanti a una scuola davanti a una biblioteca eccetera allora che cosa c'è? Eh è una diciamo un'immagine un'immagine è una scultura in terracotta e eh questa che vediamo qui è Beatrice che corre incontro a Dante questo è un punto preciso della della Divina Commedia è il canto trentesimo del Purgatorio dove si racconta di una processione vedete qui c'è proprio una processione eh molto lunga e molto simbolica qui c'è un carro e qui c'è il grifone che dovrebbe essere nel testo di Dante la allegoria di Cristo e in questo momento mh c'è l'incontro tra Dante e Beatrice però nel nel canto trentesimo del Purgatorio è tutto diverso a cui è immaginato come questa donna bellissima che corre verso questo uomo quindi questo è Dante e questa è Beatrice che gli corre incontro è bello perché in mezzo ci si può passare quindi diciamo noi ci possiamo mettere dentro alla loro storia qui c'è il dettaglio appunto di Beatrice anche il dettaglio di Dante mi piace molto questo Dante devo dire la verità perché è anche qui è il Dante è un Dante quasi sconvolto dalla vista di questa donna quindi dalla vista della della donna da lui amata che aveva eh perso diciamo quando molti anni prima quando era morta e che adesso ritrova eh qui nel nel ai non va avanti più aspetta ecco questa è l'immagine di Beatrice e questa invece è l'immagine di Dante eh ci sono i tratti caratteristici della iconografia il mento il naso gli occhi grandi questo volto questo però qui veramente è un Dante che è quasi che faccia un abbia un sobbalso vede questa donna si emoziona vede la sua donna la sua donna amata si emoziona e è quasi travolto no da questa sensazione io vedo questo mh vabbè qui ci sono altri dettagli di questa questo invece è un po' più triste questo questa scultura eh io l'ho voluta però mettere perché viene dalla Lunigiana Villa Franca Lunigiana che è uno dei posti dove comunque Dante ha vissuto l'esilio eh è di marmo credo che sia una porta eh Dante che attraversa una porta con il libro ecco guardate qui c'è veramente un naso un pochino eccessivo secondo me mh comunque vabbè questo chiudiamo veramente chiudiamo con nella street art Dante non poteva non eh così eh stuzzicare la fantasia eh dei muralisti e quindi io ho trovato in rete alcuni murales molto simpatici questi questo qui che vedete è firmato da Cobra che io non so chi sia comunque evidentemente un muralista a Ravenna che è un'altra delle città dantesche quindi come vedete la la cuffia tutte le cose che conosciamo già eh però ho raccontato con questa immagine quasi da Arlecchino io non so se volesse avesse un messaggio particolare bisognerbbe chiederglielo certo è interessante insomma questa poi questa invece si chiama Blub è un Dante sommozzatore mh sempre a Ravenna eh questa è simpatica è un fumetto con le 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 fattezze dantesche eh questa si trova a Roma è molto raffinata per essere un murales secondo me è molto raffinata a Via Nuoro Dante e Beatrice e questa è l'ultima eh a Firenze perché ovviamente a Firenze le battute non se le fanno mancare mai è Dante che viene arrestato perché non ha la mascherina e su questa immagine scherzosa che è anche un po' modo per ridere su sul momento comunque difficile che viviamo io vi ringrazio vi saluto e vi chiedo se volete di farmi delle domande o di dirmi delle vostre impressioni sulle cose che che vi ho mostrato che non sono sulle quali non sono come dire eh io ho un'autorità io ho dato delle interpretazioni ma voi potete assolutamente dirmi le vostre se vi fa piacere è finita la mia presentazione eh c'è qualcuno eh potete riaccendere i microfoni se volete aspettate che tolgo la condivisione ecco grazie Anna io non pensavo ci fosse tutta questa roba diciamo eh ma infatti ma guarda che ho saltata tanta c'è tantissimo c'è veramente tantissimo questo è il mio commento è questo perché insomma è stato veramente un bel viaggio un bel viaggio però vedi 600 e 700 nulla perlomeno nulla che io abbia trovato quindi comunque manca eh l'ottocento si ricomincia con le celebrazioni eccetera e poi c'è stato tanto nel 500 e nella fine del 400 e poi subito dopo subito il 300 qual è che vi è piaciuta di più vogliamo fare un sondaggio mi piacerebbe farlo ma non so se si può fare beh la barba non gliel'ha fatta nessuno però nel senso no la barba gliel'ha fatta eh il quello che sta nel palazzo dei giudici denotai lì c'è la barba ok no perché boccaccio parlava della barba sì sì è vero è vero no ma la cosa interessante non so se adesso io sono riuscita a farvela capire perché poi mi sono accorta che qualcosa non ho detto chiaramente però tutti i ritratti successivi al boccaccio sono in un certo modo quelli che vengono prima invece sono in un altro modo quindi lì c'è questo questa immagine che boccaccio ha dato di dante che ha fatto scuola è diventato sperimento tutto lì tutto lì a me è piaciuto quello che veniva fuori dalla cornice quello sì sì quello di l'andaio è molto bello sono d'accordo con te è molto molto bello e forse anche abbastanza non dico realismo perché queste sono parole difficili da dire però insomma verosimile perché non è così connotato come sì tante torvo cioè noi abbiamo infatti tante torvo che veramente cioè sapeva anche ridere prendere giro insomma poi facendone un ritratto forse mettere in evidenza solo quell'aspetto certo tutto non dico che non sia giusto perché poi quando uno fa qualcosa cioè quando uno ha un cuore eccetera tutti i diritti non so se lui sarebbe contento di dire così ma la cosa la cosa interessante è che tutti noi ce lo immaginiamo con quelle immagini con quelle con quelle fattezze con quelle con quelle caratteristiche io volevo dire che questa volta ho seguito la sua presentazione con particolare interesse anzi sono proprio mi sono riservato questo spazio perché ero più inconocito del solito perché normalmente lei ci parla di città o regioni o un autore e volevo vedere come riusciva a fare una conferenza intera su non l'autore ma il volto dante e lei è riuscita a portarci in giro per mezzo Italia dal dal santa croce ci ha fatto tornare voglia di andare a leggere foscolo ci ha fatto voglio non venire voglia di andare a ristorante a palazzo di giudizio a mangiare il pesce un sacco di stimoli come sempre io le dico questo io per fare queste presentazioni devo rubare un po' di tempo alle lezioni no perché la mia prima attività sono le lezioni e non è che si fa con poco cioè ci vuole un po' di tempo però lo faccio veramente volentieri perché vedo scopro delle cose bellissime cioè pur lei lei diceva ho fatto fare un viaggio ma l'ho fatto prima io questo viaggio quindi sono molto contenta di e appunto credo di aver scoperto delle cose su questo aspetto che come dice lei non mi è proprio tanto consono insomma io un mese fa del volto di dante avrei detto due cose insomma non avevo in mente un discorso invece poi andando a vedere ho trovato che mi fa piacere che lei pensi questo sorprendente felicemente sorprendente come sempre grazie va bene grazie grazie la ringrazio molto anche io ti voglio ringraziare scusa al pai no 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 ero io che dicevo al pai dimmi pure perché veramente è stato molto interessante e allora a parte i murales veramente simpatici simpatici e mi ha colpito positivamente quella che mi è piaciuto di più quella di andrea del castagno anche a te sì secondo me è molto realistica e finalmente appunto un dante non dico sorridente ma quasi però con un simpatico lì si mette in evidenza proprio la sua dignità semplicemente la sua dignità senza voler fare per forza quello che castiga sì sono d'accordo con te è uno dei più e non arcigno ecco questo anche se normale come una persona normale da un punto di vista artistico quello di botticelli veramente è bellissimo veramente è bellissimo però da lì parte tutta questa eh idea insomma di dante così e quello di Doré è un po' offensivo veramente quello di Doré è un po' offensivo sì quindi penso che sia quello più verosimile poi gli altri vogliono sottolineare soprattutto questo suo modo di di castigare i vari personaggi sì 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 certo tanto più che cioè non abbiamo in mente come poteva essere veramente il suo viso quindi a questo punto è importante rendere un un atteggiamento no un pensiero un modo di essere quindi grazie davvero bene grazie me la grazia grazie meldan sto leggendo il chat non so se qualcuno vuole dire vuole contribuire vuole dire qualcosa un'impressione una domanda io sono se posso rispondere no non ci sono domande va bene allora vi ringrazio vi dico che la prossima eh conferenza chiamiamo la presentazione come vogliamo eh sarà su Verona eh ci sarà ancora Verona come città dantesca e chiuderemo con Ravenna come città dantesca perché eh Dante è morto a Ravenna e quindi lo mettiamo la mettiamo alla fine e questo succederà a fine aprile e poi a fine maggio non sappiamo ancora le date. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie a voi di avermi ascoltato. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Alla prossima. Arrivederci. Buonasera. 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 Grazie a tutti